Oggi è una giornata di uscita di tantissimi giochi, effettivamente tre che ho effettivamente provato, poi Harry Potter Quidditch Champions è stato annunciato ma purtroppo non è il gioco che tutti pensano che sia, e infine Crysis 4, a quanto pare Crytek sta assumendo proprio in vista del nuovo gioco, questo è altro nella puntata di oggi. Ben trovati su Crystal News, gente un saluto a tutti quelli che stanno seguendo questo episodio su YouTube oppure sul podcast. Allora ragazzi, se siete persone più o meno della mia età, dovreste ricordarvi una frase in particolare, ovvero ci gira Crysis riferito a dei giochi, a dei PC che si potevano comprare una volta e che dovevano essere particolarmente potenti. Questo perché il primo Crysis è stato un gioco che, a dire la verità, più per la scarsa ottimizzazione che per altro, era particolarmente ostico da far girare su praticamente qualunque PC. Io mi ricordo proprio il periodo dell'uscita che non c'era una singola persona che conoscessi che fosse in grado di farlo girare decentemente, e io stesso con il mio povero PC all'epoca non riuscivo neanche a farlo partire. Solo a distanza di anni, con svariati aggiornamenti hardware, sono riuscito a farlo partire. Bene, l'azienda che ha sviluppato Crysis da allora, ovvero Crytek, ha effettivamente poi fatto ben poco, remaster, cose del genere, anche piuttosto discutibili, c'è da dire, ma qualche tempo fa ha annunciato un nuovo Crysis. Ebbene, a quanto pare sta assumendo proprio per questo gioco. Crysis 4, la grafica dello sparatutto next-gen, si intravede nel nuovo trailer. E il trailer si chiama A Crysis Is Coming, We Need Your Help, ovvero un nuovo Crysis sta arrivando, abbiamo bisogno del vostro aiuto. E qui c'è scritto We Are Hiring, il che vuol dire, di base, stiamo assumendo cercano personale, proprio per il gioco. Lo sviluppo del già annunciato Crysis 4 procede spedito, come conferma Crytek, condividendo un nuovo trailer che mostra delle scene, edito le quinte, del lavoro che la software house tedesca sta portando avanti per dare forma al prossimo ambizioso capitolo dell'ormai storica serie FPS. Il nuovo Crysis sta arrivando, esordisce Crytek nel messaggio condiviso sul proprio sito ufficiale, per invitare tutti i talenti del settore a partecipare allo sviluppo del quarto capitolo maggiore della saga Sparatutto. Il team tedesco spiega infatti di essere impegnato nella ricerca di personale per sviluppare Crysis 4 e la nuova iterazione del motore grafico CryEngine. Accompagnare questa tornata di assunzioni troviamo il video che campeggia inizio articolo nel quale è possibile osservare degli scampoli in engine dello stesso Crysis 4 che ritraggono il protagonista intento a combattere i soldati nemici all'interno di un'ambientazione urbana non meglio specificata. Beh allora ragazzi, Crysis all'epoca fu veramente una sorta di rivoluzione perché francamente c'erano pochi giochi che potevano stargli dietro dal punto di vista tecnico. Era indubbiamente un qualcosa di sconvolgente all'epoca che ha veramente fatto slogare la mascella a una intera generazione di videogiocatori PC. Come ho detto però poi è passato molto tempo e adesso Crytek non è più assolutamente sulla cresta dell'onda e anzi è relegata a una nicchia. Alcuni pensavano che sostanzialmente avrebbe chiuso. Ecco, e invece no, sta sviluppando un nuovo Crysis. Questo nuovo Crysis si pone l'obiettivo di essere effettivamente il ritorno in grande stile della casa di sviluppo del franchise di Crysis e anche il ritorno in grande stile del CryEngine che è il motore grafico famoso di Crysis. Tutto questo dovrebbe avvenire offrendo un qualcosa di mai visto prima di rivoluzionario che effettivamente supera i limiti di quello che al momento è possibile fare. Se non fosse che negli ultimi anni non ha combinato un granché Crytek io effettivamente sarei anche diciamo disposto a credergli perché effettivamente sono quelli che hanno già fatto un questo tipo di rivoluzione. Solo che io non vi nascondo la mia perplessità. Io dubito fortemente che con la realtà videoludica che c'è al giorno d'oggi dopo non aver fatto praticamente nulla per almeno una decina d'anni possano tornare in grande stile così dal nulla e realizzare qualcosa che faccia di nuovo slogare la mascella a tutti quanti come fu un tempo. Io ho dei seri dubbi però questo non vuol dire che non possa assolutamente succedere e se dovesse succedere è una figata perché quando succede una cosa del genere ragazzi beh come si dice si setta un nuovo standard e tutti gli altri poi sono portati a dover fare dei passi avanti per stare al passo. Quindi magari avvenisse questo. Io spero di sbagliarmi però francamente io sono molto perplesso e sono curioso di sentire la vostra opinione specie di quelli un po' più vecchiotti come me. Pensate che Crytek possa veramente ritornare in auge come una volta? Fatemelo sapere qui sotto nella sezione commenti. Sono curioso di sentire come ho detto la vostra opinione. C'è stato un annuncio ragazzi, un annuncio che ha per un attimo rotto l'internet perché a quanto pare è stato annunciato un nuovo gioco di Harry Potter e tutti pensavano che fosse un'espansione perché si tratta di un gioco che si chiama Quidditch Champions tutti pensavano, me compreso proprio nei primissimi secondi che oh mio dio quindi hanno annunciato l'espansione, hanno annunciato il DLC quindi Hogwarts Legacy avrà effettivamente il Quidditch. Bene, no, purtroppo no ragazzi, è tutt'altra cosa. Harry Potter Quidditch Champions, annunciato al via i test per il nuovo gioco multiplayer. Tulleali dell'entusiasmo per le vendite record di Hogwarts Legacy, Unbroken Studios e One of the Boss Games invitano tutti gli appassionati e Wizarding World a partecipare ai test di Harry Potter Quidditch Champions una esperienza interattiva da vivere in multiplayer su PC e console non meglio specificata. Realizzato sotto l'egita di Portkey Games, Harry Potter Quidditch Champions sprona gli utenti a darsi battaglie in multiplayer nello sport magico più famoso del mondo. Nel fornire le primissime informazioni su questo progetto, gli studi Unbroken ai vertici di One of the Boss Games spiegano che Quidditch Champions è un titolo a sé stante senza alcun riferimento diretto agli eventi vissuti agli esploratori dell'open world di Hogwarts Legacy. Il titolo proporrà diverse modalità, tanto in singolo quanto in multiplayer, da completare dopo aver dato forma al proprio personaggio attraverso un apposito editor. Gli studi Unbroken ci informano che il gioco interna pezzo in una fase di testa a partecipazione limitata e tutti coloro che desiderano immergersi in atmosfera ai nuovi videogioci di Quidditch possono tentare la sorte effettuando la registrazione sul sito di Harry Potter Campioni di Quidditch. Allora ragazzi, io penso che sia palpabile la delusione provata da tantissime persone quando hanno sentito la spiegazione di che cosa in realtà questo gioco è. Perché? Come vi ho detto nell'introduzione, tutte quante le persone stanno effettivamente aspettando quelli che amano il franchise di Harry Potter, quelli che hanno giocato a Hogwarts Legacy e che aspettano i DLC, si aspettano l'arrivo del Quidditch, no? Perché è una feature di cui all'epoca si parlava e tutti stanno mettendo la mano sul fuoco sul fatto che prima o poi ci sarà. Il problema è che adesso è uscito questo gioco, sconvolgendo completamente non solo le aspettative ma anche un po' le prospettive future di vedere il Quidditch all'interno di Hogwarts Legacy. Perché, perdonatemi, se esce adesso un gioco sempre di Warner Bros. Games incentrato sul Quidditch, completamente staccato da Hogwarts Legacy, multiplayer e che quindi vive una dimensione completamente a sé stante, io non penso che a questo punto metteranno il Quidditch in Hogwarts Legacy. Vabbè che avevano detto che effettivamente non era nei piani adesso, però andiamo, con tutti i soldi che hanno fatto, con tutto quello che questo gioco ha venduto, mi pare difficile che non diano un supporto post-lancio piuttosto importante a questo titolo e mi pare veramente molto difficile che la cosa sia finita qui per Hogwarts Legacy, no? E quindi, prevedendo il fatto che ci saranno delle espansioni o dei DLC, sì, beh, è licito aspettarsi il Quidditch, ma se ad essa è uscito un gioco a parte, sempre di Warner Bros., arriverà il Quidditch anche su Hogwarts Legacy? Secondo me no. Ma allora perché? Questa cosa mi ha completamente lasciato così, mi ha fatto cadere dal pero completamente, perché non capisco che tipo di strategia stanno tentando di fare. O meglio, la spiegazione più blanda possibile è che, dato il successo di un videogioco su Harry Potter, adesso gliel'hanno tirato fuori un altro proprio così, riciclando gli asset che stavano creando per Hogwarts Legacy, cioè per il Quidditch dentro di Hogwarts Legacy, per metterli in un altro gioco e quindi venderlo a parte. D'accordo. Però, perché così? Io credo che sia confusionario, credo che avrebbe fatto ancora di più la fortuna di Hogwarts Legacy. Secondo me è una mossa stupida questa qui, ed è una cosa che non riesco a capire fino in fondo, cioè, se la motivazione è questa, mi pare un po' strana e un po' miope, francamente. Quindi, voglio sentire la vostra opinione. Sono quasi certo che la maggior parte di voi sia rimasto deluso quando ha capito di che cosa in realtà si trattava questo gioco, però voglio sentire genuinamente la vostra opinione per sentire, insomma, che cosa ne pensate. Ti piacciono le news? Allora non stare con le mani in mano come i malnati. Puoi supportare il lavoro di Chris facendo un abbonamento su Patreon. Tramite Patreon puoi offrire il tuo contributo al progetto e ai contenuti che vedi gratuitamente ogni giorno, anche con un solo euro. Così ogni mese a Chris arriva quell'euro e lui è felice, perché non è più povero. Abbonati a Patreon, così supporti il lavoro di Chris e le cose. Ora, torniamo alle news. E ora ragazzi, c'è il commento del giorno, a cui però devo fare un preambolo questa volta. Oggi farò una cosa che normalmente non faccio, mettere un commento negativo che poi alla fine è risultato in un ban, ok? Lo faccio questa volta facendo questa eccezione e credo che questa eccezione la farò periodicamente ad un solo e unico scopo, che è quello che vi spiegherò dopo aver letto il commento. D'accordo? Questo commento è più o meno questo. Ma guarda un po' il Senato americano, ma che ci azzecca il Senato, ma fate i seri, siete voi boxari dei poppanti. Si riferisce al fatto che un senatore, anzi più senatori americani, hanno chiesto a Sony i documenti dell'acquisizione perché pensano che il Giappone stia violando gli accordi di libero scambio tra Stati Uniti e Giappone, cioè quella cosa. Piuttosto sensata e seria, dato che ci sono i documenti. Però lui ritiene che non ci azzecca niente il Senato e che siamo tutti quanti dei boxari poppanti. E la mia risposta è stata quella che vi immaginate, oppure vai pure in seconda E al primo piano e chiedi della maestra De Angelis. Ora, io vi ho postato questo commento non per farci tutti quanti una sghignazzata alle spalle di questo utente, perché francamente non mi interessa qui. e poi ce la siamo fatta già su Instagram, ok? E' quello il posto in cui posto gli screenshot. Qui si parla, qui si parla e nel format delle news mi interessa parlare con voi. Siccome nel format delle news mi interessa parlare con voi, ci deve essere un qualche tipo di dialogo. Perciò io ci tengo a mantenere l'igiene nella community. Quindi, io uso questo momento del commento del giorno per specificare una cosa in particolare. Se siete venuti qua con l'intenzione di postare delle cose del tipo a sonaro, a boxaro, di insultare e cose del genere, io non fatelo affatto, proprio desistete fin dall'inizio, perché io vi banno. Punto e basta. D'accordo? Perché, come ho detto, ci tengo a mantenere l'igiene della community. Di qua, qui, si può parlare di tutto e anche le critiche, come spesso è successo, sono le benvenute se sono sensate, argomentate e non sono a livello seconda media, ok? Quindi, se il tuo cervello è pari a quello della seconda media ma hai 32 anni, mi dispiace tanto per te, non è il posto per te. Se invece hai veramente 11 anni e sei in seconda media, non è comunque il posto per te perché è un canale per adulti quindi torna con i tuoi amichetti a dirvi l'uno o l'altro qual è la console più bella e buona e brava. Qui, no, non mi interessa. Quindi, console war, PC versus console, oh mio Dio i sonari, oh mio Dio i boxari, ban. D'accordo? Questo è il motivo per cui ho postato questo commento, come avviso, perché magari c'è qualcuno che potrebbe non saperlo e improvvisamente... Oh, ma dov'è finito il mio preziosissimo commento? In seconda E. E ora, ragazzi, passiamo alle news a ruota. The Mage Seeker, League of Legends Story, l'action GDR di Riot, si lancia in video. E nuovo GDR, gli autori di Moonlighter, The Mage Seeker, League of Legends Story, finalmente disponibile su PC e console, come ci ricorda Riot. Il nostro compito è quello di aiutare il mago Silas a fuggire da Denacia per unirsi a una banda di ribelli nascosti nella foresta. Il canovaccio narrativo a fonte tematiche come il potere, giustizia e l'identità per raccontare le gesta compiute da Silas e dai suoi sodali. È disponibile proprio da, di fatto ieri, martedì 18 aprile, su PC, PS4, One e Switch e PlayStation 5. Il che è una cosa molto figa perché io effettivamente l'ho già provato il gioco e ho iniziato la serie che potete recuperare sul secondo canale YouTube la pubblicherò proprio oggi, quindi dateci un occhio, ok? Sembra molto carino da quello che ho visto, questi sviluppatori sono molto talentuosi, sono gli autori di Moonlighter e i giochi pubblicati sotto l'egida di Riot Forge finora sono stati tutti molto molto belli, quindi diciamo che ho una garanzia e non vedo l'ora di andare avanti. Poi, altro gioco uscito proprio nelle ultime ore, Minecraft Legends che sbarca su PC console Game Pass e la guerra dimensionale a inizio. La nuova esperienza RTS perché è un RTS ambientata alla dimensione squadettata di Minecraft cala i giocatori nei panni di un eroe chiamato a fronteggiare la minaccia rappresentata dalle forze oscure del Nether da un esercito di Piglin corrotti e pesca a piene mani la tradizione degli strategici, dei gestionali e dei Tower Defense per sponare i giocatori a creare il proprio esercito di serventi e costruire delle basi sufficientemente robuste da resistere all'attacco di Piglin delle creature scaturite dal Nether sono centinaia di materiali oggetti, strutture architettoniche armi, equipaggiamenti e blocchi logici eccetera eccetera anche questo gioco disponibile e anche questo l'ho cominciato ragazzi quindi anche questo potete trovare sul secondo canale YouTube di questo devo dire che ho avuto più un'esperienza mista non sono sicuro che il tipo di gameplay mi piaccia ma il gioco è senza dubbio fatto bene perciò per gli amanti di Minecraft direi che è quasi una cosa a scatola chiusa però è molto carino e anche le recensioni ne parlano abbastanza positivamente devo dire ma non è finita qui perché è uscito anche il DLC di Horizon Forbidden West che ho giocato poche ore fa proprio dopo la mezzanotte è uscito e l'ho giocato immediatamente e poi chi è Seika lo svela il nuovo video di Burning Shores effettivamente che ora ormai è uscito il nuovo il nuovo personaggio di Seika che incontreremo è interpretata da Kylie Laia Page Seika viene descritta da guerriglia dalla stessa attrice doppiatrice con un personaggio duro una guerriera disposta a tutto pur di difendere la sua famiglia e la sua tribù di appartenenza dai pericoli esterni sia noi sia rappresentati da macchina o qualsiasi altra minaccia molto bello ragazzi ci ho giocato giusto un paio d'ore devo dire che la cosa che più mi è rimasta impressa è dopo che non ci hai giocato un anno è difficile riprendere in mano tutto subito e trovarsi delle macchine particolarmente bastarde ho penato un po' a riprendere in mano il gioco però è sempre un piacere perché l'ambientazione è veramente bellissima è guerriglia sa fare i giochi in una maniera veramente impressionante dopo tutto Horizon Forbidden West è stato il mio personale goti dell'anno scorso quindi immaginatevi quanta voglia avevo di giocare a questo DLC comunque anche questo è uscito da poco e anche questo potete ritrovare sul secondo canale YouTube poi Inxile Entertainment lavora un IP esistente l'avvistamento su LinkedIn sono gli autori di Wasteland per esempio Matt Booty ha confermato di aver visto un gioco sbalorditivo in sviluppo presso Inxile Entertainment e pare proprio che dietro le quinte ci sia quindi proprio questa attività diversi rumor in passato abbiamo citato il misterioso Project Cobalt un RPG in Unreal Engine 5 ma è annunciato però ufficialmente nel profilo personale del game designer George Williams pare che sia dedicato un IP esistente da ottobre 2021 giugno 2022 si parla di questo diciamo l'arco dello sviluppo del gioco in cui questa persona ha lavorato in passato Inxile ha lavorato a molteplici capitoli la serie Wasteland The Burst Tale Torment Tides of Dumenera quali IP è in procinto di fare ritorno al momento non è dato a saperlo però c'è l'Xbox Game Showcase di giugno e quindi quella potrebbe essere una finestra adeguata proprio per scoprirlo poi Dead Island 2 spunta nei primi 30 minuti leak per i zombie di Los Angeles quindi state attenti ragazzi perché potrebbe poteste incappare in nei primi 30 minuti aspetta no non è uno spoiler quindi ci sono i primi 30 minuti di game confuso con un'altra news scusate ragazzi errore mio questi sono i primi 30 minuti ufficiali pubblicati su IGN Dead Island 2 gioco che è in arrivo venerdì 21 aprile e dato che ci siamo c'è quanto dura Dead Island 2 la longevità della campagna principale sembra essere di almeno 20 ore di gioco se fate delle altre cose ovviamente si allunga un po' ma il gioco sembra essere abbastanza lineare alcune zone sono più aperte di altre quindi vi danno più possibilità di esplorare ma altre invece sono molto tunnelose d'accordo? quindi no non è assolutamente un open world ma credo che questo lo sapeste già poi Tango Gameworks dopo Hi-Fi Rush il team lavora un GRPG parla il leaker di Overdose la prossima produzione del team di Bethesda non mancano le indiscrezioni il responsabile della diffusione del video leak di Overdose il presunto titolo del gioco sviluppato da Hideo Kojima per Xbox Cloud ha condiviso con il pubblico alcune sue personali teorie si è detto certo del fatto che la software si stia preparando al lancio di una ulteriore nuova EP dopo il successo di Hi-Fi Rush e l'addio di Shinji Mikami a Tango Gameworks lo studio non avrebbe al momento l'intenzione di concentrare l'energia sulla realizzazione di Daywell Within 3 purtroppo al contrario esplorando ulteriormente lo stile anime dell'action rhythm game gli autori di Hi-Fi Rush si starebbero preparando a realizzare un JRPG di qualche tipo questa è ovviamente una indiscrezione diciamo un po' che rimane nell'aere non è fondatissima però effettivamente dentro Tango Gameworks ci sono degli stravolgimenti in atto sicuramente perciò bisogna vedere cosa succede poi Forza Motorsport sembra essere al centro di nuovi leak e spunta un'immagine in rete ma questa immagine è un presunto screenshot leak di Forza Motorsport in fase di test e l'immagine presenta al suo interno il watermark Triton riconducibile all'omonimo streamer che ha contenuti sulla piattaforma viola Twitch però secondo quanto riportato alla redazione di Insider Gaming lo stesso content editor avrebbe negato di aver pubblicato in rete il suddetto screenshot ciononostante l'oggetto potrebbe appartenergli effettivamente come confermato da Triton in persona il che parebbe confermare la validità delle immagini catturate dalla fase di test di Forza Motorsport non è chiaro che cosa sia successo il che rende il leak un pochettino dubbio devo dire però se da Insider Gaming dicono che sembra essere fondato beh più o meno ci possiamo credere si spera di vedere qualcosa molto presto poi Final Fantasy XVI a Los Angeles Square Enix svela l'evento di prelancio ecco data e ora quanto pare ci sarà un evento di prelancio live a Los Angeles e l'evento si terrà ufficialmente dalla mezzanotte italiana tra domenica 11 e lunedì 12 giugno maggiori dettagli verranno condivisi in un secondo momento in riferimento al live streaming lascia di sottintendere la presenza di una più sorprese legate a Final Fantasy XVI magari gameplay inediti deep dive sul mondo di gioco magari la pubblicazione a sorpresa di una demo prelancio sul PS Store staremo a vedere speriamo davvero di sì poi Diablo 4 entra ufficialmente in fase gold e pare essere tutto pronto per il ritorno a Century quindi lo sviluppo vero e proprio di Diablo può dirsi ultimato Diablo 4 in fase gold recita il 5 tio di Blizzard ora è riuscito ad avvertire la sua presenza ci viene chiesto con evidente riferimento a Lilith la regina delle succubi sicuramente uno dei titoli più attesi di questo anno e arriverà il 6 giugno quindi che sia già in fase gold adesso effettivamente abbastanza significativo incrociamo le dita ragazzi speriamo speriamo bene però sembra essere tutto abbastanza positivo poi a quanto pare Star Wars Battlefront 3 esisteva ma è stato cancellato e le parole sono proprio quelle di uno sviluppatore che è Michael Barclay che occupa oggi la posizione del designer presso Naughty Dog e ha detto ritengo sia trascorso tempo a sufficienza per affermare che Star Wars Battlefront 3 sarebbe stato incredibile e il fatto che sia stato cancellato quando i lavori erano giunti alla fine è un vero crimine i videogiocatori non hanno idea di che cosa si siano persi lo sviluppatore ha preferito non scendere nel dettaglio non è ben chiaro quali fossero le caratteristiche di gameplay e quindi lecito chiedersi come sarebbe andato in futuro della serie purtroppo è anche il periodo in cui EA si comportava come ci ricordiamo che si comportava la vecchia EA adesso un po' di cose stanno cambiando devo dire da un po' di tempo a questa parte EA sta tirando fuori anche dei progetti single player molto convincenti tra cui il gioco dell'anno di due anni fa che è It Takes Two perciò davvero sono molto contento di questo quindi magari è un'altra epoca però a quanto pare Battlefront 3 sembrava veramente figo e non lo avremo mai poi Fortnite forse sta per tornare su iPhone e iPad ci sono i primi indizi dagli ultimi rumor su iOS 17 le ultime voci corridoio suggeriscono che con iOS 17 arriverà anche il side loading si tratta di una funzionalità che permetterebbe agli utenti di installare applicazioni da fonte esterne all'App Store in maniera molto simile a quanto visto su Android come potete facilmente immaginare con un sistema di questo tipo sarebbe possibile per Epic Games distribuire le sue applicazioni anche su iOS senza alcuna limitazione così che anche gli utenti iPhone e iPad possano scaricare Battle Royale e gli altri prodotti all'azienda senza rincorrere ai servizi di cloud gaming firmati Xbox o Nvidia la stessa Epic Games ha dichiarato qualche mese fa che Fortnite sarebbe tornato su iOS entro la fine del 2023 e a quanto pare è proprio questo il modo in cui si potrebbe concretizzare la cosa il che però è un passaggio molto importante per iOS che va molto al di là di Fortnite e che porterà un sacco di cose ragazzi quindi in realtà la figata vera è quella però sì chi voleva giocare a Fortnite su iOS probabilmente d'ora in poi potrà farlo in maniera un po' più easy e infine Park Beyond l'erede spirituale di Team Park sorprende nel nuovo video gameplay che vi consiglio di vedere ragazzi perché è veramente figo Park Beyond offre ai partiti del genere l'opportunità di creare e gestire il proprio parco di divertimento ideale il profondo editor integrato nel titolo non darà semplicemente accesso agli strumenti per costruire le attrazioni ma si promoverà di gestire ogni singolo aspetto del parco il che vuol dire che potrete accedere a una personalizzazione veramente maniacale di quasi qualunque cosa per uno come me non è esattamente una buona notizia perché tende a essere troppo confuso per i miei gusti poi il titolo ma c'è chi invece adora questa cosa perché adora poter creare liberamente in ogni singolo dettaglio in ogni caso il gioco esce il 16 giugno e c'è una fase di closed beta testing che si terrà proprio il 9 maggio e infine ragazzi per l'offerta del giorno beh Gods of Tsushima Director's Cut per Playstation 5 è in offerta oltre al 50% di sconto a 39,98 è la Director's Cut quindi la versione diciamo completa di Ghost of Tsushima un titolo che io ho veramente adorato ragazzi veramente bellissimo questo titolo perciò se non l'avete mai giocato e siete su PS5 potete valutare di prenderlo qui perché lo sconto è importante e se passate attraverso il link affiliato che trovate qui sotto in descrizione proprio quello dedicato all'offerta del giorno sappiate che aiutate il canale perché a me arriva qualcosa in ogni caso mi fa piacere darvi questo link così sapete che questo sconto c'è in caso lo valutate voi bene gente è tutto per le news di oggi grazie mille per aver visto questo episodio noi ci vediamo al prossimo mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto iscrivetevi anche al secondo canale seguitemi su Twitch lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e in descrizione trovate tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram tutti i link per supportare il canale tra cui i link affiliati ad Amazon Instant Gaming e il Patreon e anche il link alla playlist con tutte le Christian News in uscita ogni giorno come sempre alle 7 su YouTube e sul podcast a domani ragazzi